Ho appena finito di seguire il corso del metodo autobiografico creativo e l'ho trovato molto interessante. Io avevo già partecipato al laboratorio sulla tecnica autobiografica creativa, quindi avevo già avuto modo di apprezzare tutte le caratteristiche, le applicazioni di questo metodo e in questo videocorso ho trovato sicuramente tante varianti possibili che personalmente non avevo fatto durante il laboratorio, ma che trovo molto utili semplicemente perché poi vanno applicate ai contesti, quindi a seconda del contesto in cui ci troviamo a lavorare possiamo utilizzare l'una o l'altra modalità. Molto interessante il discorso del conoscersi, insomma questo è un aspetto comune secondo me a tutte le arti terapie ed è molto importante per la formazione di un'arte terapeuta in generale, ma anche e soprattutto di qualunque figura lavori nelle relazioni di aiuto. Quindi attraverso questo metodo che ci consente di fare in effetti un viaggio è effettivamente possibile accedere alle zone d'ombra, alle zone meno conosciute di noi stessi, da noi stessi, che sono quasi sempre tantissime. Credo sia efficace, l'ho provato già su di me, nel senso che durante il video a un certo punto è apparsa il disegno della mia cameretta che avevo fatto appunto durante il corso e quella lì con il pianoforte e tu dici di quello sgabbello, parli di quello sgabbello che è messo in modo obliquo e dici, beh chissà se questo sgabbello sta aspettando qualcuno. Bene, a distanza di forse due anni, perché il laboratorio l'ho fatto due anni fa, me la sono posta forse per la prima volta quella domanda e probabilmente era rivolto a me quello sgabbello. Ora, al di là della risposta giusta o sbagliata che sia, trovo l'efficacia di questo metodo già nel fatto che io mi sia posto questa domanda e quindi appunto come dici anche in un video che il metodo diciamo che diventa efficace nel momento in cui chi lo segue, chi vi partecipa, riesce a mettersi in contatto con se stesso, riesce a porsi delle domande, riesce a mettere in dubbio le tante sicurezze, i tanti punti fermi che abbiamo nella nostra vita. Quindi attraverso questo viaggio nel mondo reale che poi passa attraverso il mondo immaginario e quindi la parte probabilmente più profonda, quella meno cognitiva, riusciamo a riemergere nel mondo reale ma solo se facciamo i conti con tutta la parte oscura che c'è in ognuno di noi, il cosiddetto lato oscuro, il lato ombra. Quindi sì, vabbè, ci sarebbero tantissime cose da dire ma penso non ci sia il tempo. Le applicazioni, ecco, alla luce di questo corso video già erano tante, adesso possono essere ancora di più con tutte le varianti che ho potuto scoprire. Ovviamente vanno poi copiate e incollate adattandole al contesto in cui andremo ad operare, ma penso che praticamente questo metodo possa essere utilizzato in tutti i contesti, quindi dall'infanzia all'adolescenza lì dove proprio c'è necessità di riuscire ad esprimere le emozioni perché penso che uno dei più grandi problemi degli adolescenti, dei giovani di oggi sia l'analfabetismo emozionale, cioè non riuscire ad esprimere le emozioni appieno e quindi attraverso il gioco, attraverso la fiaba, appunto arrivare nelle parti più profonde per poi riemergere, ritrovarsi così sorpresi anche dal risultato. Allo stesso tempo io lavoro nella psichiatria e penso che questo metodo possa essere utilizzato anche nella psichiatria, in realtà già l'ho fatto in parte, ho utilizzato alcune fasi del metodo autobiografico con i miei ragazzi e ho avuto riscontri incredibili perché sono persone che conosco da tanti anni ma grazie a questo linguaggio diverso, nuovo, ho scoperto cose nuove dei miei ragazzi, così li chiamo. E quindi sì, è assolutamente polivalente come metodo, allo stesso tempo può essere utilizzato per le persone normali quindi nelle aziende, ecco un'altra cosa che troverei molto utile è l'applicazione di questo metodo ad esempio in un'equipe come la mia, quindi un'equipe di operatori che lavorano nella psichiatria.